Ciao a tutti, bentornati sull'Antimetra, siamo il Lorenz, che robe, e il mercante del bazar di Via Latta e oggi vi portiamo un nuovo episodio di Stappo, Mantengo e Pesco e in fase principale parliamo dei formati di Magic ovvero tutti quei modi per poter giocare al nostro gioco preferito possiamo dire che esistono due grandi macro aree di formati i formati costruiti, dove tu arrivi al torneo con il tuo mazzettino preparato a casa o i formati limited, dove invece si comprano sul momento le buste o qui si costruisce il mazzo con cui giocare infatti, allora, partiamo dal formato standard che è un formato costruito dove noi costruiremo partiamo diciamo da tutti quei formati che sono costruiti quindi prendiamo il nostro mazzo, ce lo facciamo a casa, lo portiamo in negozio e giochiamo in negozio ovviamente ci sono migliaia di formati su cui giocare ce ne sono veramente tanti noi parleremo principalmente di quelli più importanti supportati ufficialmente da Wizards of the Coast partiamo dal punto che partiamo dallo standard vi lasciamo in sottofondo delle slide dove ci sono scritti a grandi linee le descrizioni dei formati che potete trovare sul sito ufficiale della Wizard e ve li raccontiamo in due parole, dai, con lo standard parto io standard è un formato di quelli appunto principali supportati da Wizards il mazzo è da 60 carte, si gioca uno contro uno e sono legali tutte le carte delle edizioni regolari uscite negli ultimi due anni e all'interno di questi due anni c'è una rotazione dove ogni autunno escono le quattro espansioni più vecchie e si inizia ad introdurre quelle nuove man mano che escono esatto, la rotazione di solito coincide con l'uscita di quello che una volta si chiamava set base che adesso è stato sostituito da altri set ma che alla fine è sempre di solito il terzo set su quattro annuale io e che robe l'abbiamo giocato, standard per parecchio tempo c'è Deme? Ti sei mai approcciato? ma io standard non mi ci sono mai approcciato proprio perché non mi ha mai intrigato l'idea di un formato che ruota quindi dover avere un impegno economico per costruire un mazzo che poi dopo un anno devo magari cambiare perché ruota fuori da standard condividiamo anche noi questo pensiero infatti adesso vi mettiamo i pro e i contro sottolineiamo subito che tutti i pro e tutti i contro sono dei nostri pareri personali di cui abbiamo discusso noi tre e che per alcuni di voi magari un pro potrebbe essere un contro e viceversa però appunto noi ci siamo approcciati a standard perché era il formato che si giocava di più specie nel nostro negozio diciamo che uno dei pro appunto è che quando si inizia ci sono anche meccaniche ristrette limitate e quindi questo è facile imparare esatto è facile imparare il gioco di Magic proprio iniziando con standard assolutamente sì quello è vero è uno dei formati migliori per iniziare ad approcciarsi al gioco ci sono poche meccaniche e quindi è facile sono controllabili poi i set vengono sempre studiati per funzionare anche tra di loro in standard quindi è molto facile approcciarsi perché non si ha a che fare con mille mille meccaniche come in formati più estesi esatto esatto infatti questo era uno degli aspetti positivi poi dopo ci si è evoluti e si è passati ad altri formati e un altro punto che abbiamo detto di essere interessante come pro secondo noi appunto è la rotazione perché in tanti formati specie di quelli a 60 carte ci sono combinazioni di carte che sono più forti di altre quindi si vedono spesso quei mazzi sì tendono ad essere più stagnanti esatto quindi standard rotando prima o poi quei mazzi escono dalla legalità del formato e quindi non possono più essere giocati esatto noi quando giocavamo c'era il Temur Energy di Kaladesh che dominava il formato non vedevamo l'ora che andasse fuori e così si cambiava un pochettino noi avevamo fatto il tribale zombie con Ammon che ti era la rovina esatto era straforte ma comunque insomma standard è un buon formato per iniziare sicuramente è anche abbastanza competitivo perché comunque come tutti i formati a 60 carte dove ci fanno molti tornei specie importanti ci si impegna dietro e quindi ci sono giocatori veramente preparati su questo formato sì e tra l'altro il GP che dovrebbe il prossimo GP in Italia sarà un GP di standard ecco quindi non fare un pochettino event esatto proprio per niente sì infatti dicono che è stata un po' una una cavolata quella di mettere standard perché in Italia standard non è un formato così sentito però comunque di giocatori standard in realtà qualcuno c'è quindi potrebbe essere anche una cosa carina soprattutto per i pro che avete detto esatto quindi insomma comunque è un formato che almeno io lo promuovo non a pieni voti però è un formato promosso diciamo sì ci sta diciamo che il costo l'alto costo è un ottimo deterrente per non giocarlo e per cui abbiamo smesso esatto sì che alla fine è un alto costo sul lungo periodo perché magari un mazzo di standard non costa quanto un mazzo di altri formati di per sé il problema è che ogni anno devi modificarlo addirittura smontarlo e montare qualcos'altro di nuovo proprio per via della rotazione esatto quindi è un formato anche impegnativo sì un formato impegnativo bene ora passiamo al secondo al Payoneer Payoneer praticamente ha un formato sempre a 60 carte che tiene conto sempre di tutte le carte uscite nelle espansioni regolari a partire però da ritorno a Ravnica in poi quindi correva mi sembra l'anno intorno al 2013 2014 più o meno sì questo è un formato abbastanza nuovo lanciato da Wizards due o tre anni fa subito prima della pandemia e che purtroppo ha patito molto secondo me la pandemia perché era partito bene con anche delle banlist settimanali per tenerlo a posto guardarlo e tutto poi è caduto un po' in disuso diciamo ho visto comunque poca gente continuare a giocare Payoneer ed è un peccato perché in realtà è un formato che secondo me è molto interessante perché è un modern che però non è potente e difficile da entrarci come modern di cui parleremo subito dopo Payoneer perché comunque hanno deciso di fare delle scelte come bannare le fetch che hanno reso il formato molto accessibile ai giocatori esatto infatti nei pro avevamo appunto detto che le carte comunque sono facili da reperire essendo abbastanza fresche perché hanno massimo 10 anni e in più tante di queste carte non essendo magari giocate in altri formati hanno prezzi ancora moderati esatto visto anche che il formato non è ancora così diffuso e soprattutto non essendo così diffuso è anche un formato dove si può ancora fare dei test si può esplorare provare cose nuove proprio perché diciamo non ci si è ancora messa troppo mano sopra e non c'è ancora quella stagnazione del formato che abbiamo in altri formati quindi è molto bello è economico ci si può entrare ci si può fare esperimenti è anche divertente però è poco diffuso sì io stavo dicendo che sto raccogliendo le carte da da monorosso che sono uscite in questi anni per per poi chissà che un giorno qui nei dintorni non salti fuori qualche torneo da Pioneer per provarlo insomma comunque sì il fatto che sia poco giocato allontana allontana eh sì perché comunque è difficile trovare dei tornei di Pioneer e quindi alla fine è difficile trovare gente che giochi a Pioneer e secondo me questa cosa è stata un po' colpa del covid perché mentre tutti gli altri formati alla fine erano abbastanza già diciamo stabili avevano una buona base di giocatori Pioneer è arrivato nel momento sbagliato secondo me però credo che adesso inizino a a ritirarlo in ma speriamo speriamo perché è veramente un bel formato ed è un peccato che abbia perso così tanta player base nel giro di poco tempo no no ma secondo me tornerà super perché comunque col fatto che eh ok modern è una certezza eh però tanti nuovi giocatori che entrano è difficile eh indirizzarli al modern esatto e infatti dai parliamo del modern che esatto diciamo uno dei formati più giocati e direi il più giocato nei formati a 60 carte esattamente anche perché comunque anche questo qui tiene le espansioni regolari che sono uscite però da Mirrodin in poi con l'aggiunta dei modern horizon che sono stati fatti negli ultimi 2-3 anni esatto e quindi anche questo qui è un formato ma questo è un signor formato eh perché comunque abbiamo già un livello di potenza molto elevato eh purtroppo ha discapito di un costo per farsi un mazzo parecchio alto eh però come tu hai messo nei contro in realtà per molti può essere un pro è un formato molto competitivo dove si giocano veramente delle carte potenti e abbiamo un una quantità di carte abbastanza importante e una bang list che viene costantemente aggiornata nel momento in cui purtroppo ogni tanto capita un un determinato mazzo prende il sopravvento sul formato e purtroppo in modern è una cosa che capita molto spesso quando esce l'espansione sbagliata e c'è quella carta che rompe il formato intero e quindi poi deve essere bannata e l'ho visto più o più volte ed è una cosa che comunque è pericolosa perché io ho visto tantissime persone piangere mentre smontavano il mazzo e lo mettevano nel raccoglitore perché gli avevano bannato la carta che lo faceva girare questo infatti è un bel problema insomma specie se si investe dietro una cifra importante a un mazzo sicuramente il modern è più apprezzato diciamo dai giocatori di vecchia data cioè da chi ha una collezione più ampia questo discorso qui incide meno mentre invece pioneer essendo più recente la maggior parte dei giocatori hanno una collezione non dico vasta però già più ampia rispetto al modern quindi questo discorso dello svalutare il mazzo in pioneer incide molto di meno molto molto meno nel caso di banlist però comunque ecco io personalmente non ci ho mai giocato modern perché non ho mai voluto avendo iniziato tardi non ho mai voluto investire su mazzi da modern a maggior ragione che da noi non si gioca invece ad esempio nella mia zona si gioca moltissimo modern quindi io avevo provato anche a fare dei mazzi modern il problema è che è uno di quei formati dove se non spendi non sei competitivo e soprattutto essendo comunque un formato abbastanza stagnante a parte qualche explodione a volte ogni tanto alla fine ci sono quei 3-4 mazzi che costano uno sproposito che o ti fai quelli oppure è difficile che te la sfanghi in un Friday Night Magic esatto infatti questo è uno dei contro più più importanti secondo me quello non è un formato entry level no per niente già vezi del gioco poi stiamo degenerando esatto passiamo a Legacy e Vintage e sono praticamente due formati invece che tengono sempre 60 carte ma nei quali si possono giocare tutte le carte uscite in Magic quindi anche quelle dei mazzi commander anche quelle delle edizioni speciali tutte le promo di jumpstart piuttosto che from the vault cioè tutte le espansioni si può giocare tutto con ovviamente delle banlist particolari per evitare casini alla fine esatto la differenza tra Legacy e Vintage è la è la banlist che c'è c'è una banlist diversa uno è più cattivo uno un po' meno esatto Legacy tende a essere diciamo a un livello abbastanza alto ma Vintage ci permette di giocare delle carte che in Legacy sarebbero impossibili da giocare e infatti Vintage è penso il formato più caro di Magic dove arriviamo ad avere dei mazzi che costano anche svariate decine di migliaia di euro ecco quindi facciamo senza dire che noi non ci abbiamo mai giocato esatto ebbè mi sa che non ci vedremo neanche no 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 diciamo che secondo me il modo più comodo se uno vuole avvicinarsi a Legacy o a Vintage potrebbe essere Magic Online dove alla fine i prezzi sono leggermente più bassi delle carte perché ovviamente non c'è troppo il fattore collezionistico però giocare Legacy e Vintage cartacei è veramente complicato ed è un peccato perché ad esempio Legacy in realtà è un formato che non sarebbe così tanto caro se non fosse per una serie di carte principalmente le carte in Reserved List che tendono apportano questo formato a essere effettivamente carissimo perché anche soltanto ci sono molti mazzi che se le Dual costassero poco costerebbero a grandi linee come un mazzo modern meglio sui 2-3-5 euro insomma e quindi il problema è che le Dual costano una cosa come 1000 euro l'una alcune diciamo e quindi diciamo 100-150 euro quelle più scaccione esatto quelle mangiate dai cani e quindi diciamo che il grosso muro di Legacy è quello mentre Vintage è ancora una cosa diversa perché si può giocare Black Lotus si può giocare tutte le P9 e quelle sono carte veramente forti e veramente costose e quindi è proprio inarrivabile Vintage con delle mazzate colossali ci si dà in sostanza sì è veramente a livello di potenza e sono i due formati più potenti e dove letteralmente mi dicevano che soprattutto in Vintage se le carte ti cadono devi imparare a non chiudere le gambe per fermarle ma farle cadere perché se pieghi un Black Lotus ti spari ecco bene adesso io mi sposterei sul Pauper così torniamo a livelli umani esatto Pauper che molti chiamano Mini Legacy o Legacy dei poveri infatti Pauper vuol dire povero in tedesco anche è sempre un formato di santa carte ma dove utilizziamo soltanto le carte comuni che siano state comuni in una delle loro stampe esatto e non ci sono limiti di espansione quindi anche qui carte uscite in quale in quest'inizio speciale vanno benissimo e niente possiamo dire che è un formato molto economico giocandosi solo le carte comuni qualche centesimo sì 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 alla fine un mazzo competitivo di alto livello costa comunque sempre sotto i 100 euro forse c'è qualche mazzo che arriva ai 100 ma la maggior parte dei mazzi sono sui 60 70 80 euro terre comprese esatto ma poi dubito forse anche meno perché insomma veramente io parlo di quelli più competitivi quelli comunque tra virgolette quelle comunicare che sono poi le comuni da 3 euro e mezzo che ce ne sono ce ne è qualcuna ma non tante quindi sì no è vero perché anch'io ho un mazzo pauper che ho fatto che ho giocato con qualcuno ogni tanto in casa ci si trovava e sì c'è qualche carta costa quella cifrona lì ma più che altro perché sono di vecchia data e quindi non sono mai state ristattate esatto è normale che il prezzo salga un po' se è leggermente utilizzata però diciamo che i pro di questo formato è che effettivamente è un formato estremamente economico quindi in realtà anche per chi vuole affacciarsi al gioco può essere un'ottima un'ottima opzione per non spendere e non investire un capitale ma è comunque un formato molto competitivo perché effettivamente sembra di gioco solo con comuni ma in realtà ci sono dei mazzi veramente forti io ho un burn pauper che se la vede con i burn di modern e riesce addirittura a vincere delle partite però un altro grosso problema di pauper è che è un formato anch'esso molto stagnante ci sono i soliti 5 6 7 mazzi o giochi quello esatto o giochi quello oppure se provi a sperimentare alla fine prendi schiaffi sì sì ci sono gli esperimenti sono sempre di basso livello anche perché è difficile che stampino delle carte comuni che rivoluzionino questo formato sì e le uniche volte che lo hanno fatto le hanno bannate subito dopo ecco ecco quindi io che l'ho provato lo consiglio pauper perché comunque costa poco ci si diverte quindi e alla peggio se non ti piace alla fine hai speso poco esatto non ci smeni molto e soprattutto quando ci entri dentro poi inizi a volerti fare tutti i mazzi possibili immaginabili perché tanto costa niente farli esatto puoi anche farti tutti i mazzi e li presti gli amici esatto e ultimo formato che di costruito che tra l'altro sta diventando molto molto famoso negli ultimi tempi è commander che è diverso da tutti gli altri formati che abbiamo parlato finora perché invece di essere un formato a 60 carte è un formato a 100 carte dove noi scegliamo una creatura leggendaria e ci costruiamo un mazzo attorno giusto esattamente rispettando le sue identità di colore e volendo rispettando anche magari l'effetto che ha il comandante per cercare di sfruttarlo appieno non tutti i commander seguono questa logica però moltissimi proprio vengono fatti in base al comandante è anche un formato diverso perché qua a differenza di tutti gli altri si gioca in multiplayer esatto si si parte da 40 punti vita e ci sono i danni da comandante quindi se il nostro comandante fa 21 danni o più a un avversario quell'avversario perde la partita in automatico danni da combattimento danni da combattimento si si è importante specificarlo perché ci sono dei comandanti che fanno danni in altri modi fanno danno con effetti esatto e commander è un formato studiato più per essere effettivamente un gioco da tavolo per passarsi una serata tra amici che un formato competitivo dove bisogna vincere a tutti i costi anche perché spesso la soddisfazione deriva più dalle giocate che dalla vittoria esatto se riesci a fare a fare col tuo mazzo quello che vuoi sei soddisfatto anche se non vinci esattamente esatto lo scopo è riuscire a fare quello che vuoi vuoi vincere è importante ma è una cosa secondaria esatto è proprio più ha un'ottica diversa rispetto agli altri formati di cui ho imparato fino adesso ed è anche questa la forza per cui si sta diffondendo parete esatto e per la quale ad ogni espansione ci tirano addosso valanghe di nuovi mazzi precostruiti esatto e soprattutto perché sono aumentate così tanto le creature leggendari all'interno dei sedi standard infatti ce ne sono veramente veramente tante che a differenza di pauper dove con poco puoi comprarti tutti i mazzi che ci sono qua invece non riesci neanche a pensare a tutti i mazzi che vorresti fare esatto e questo in realtà può essere comunque anche cioè è bello perché ti permette di personalizzare di avere esattamente il mazzo che vuoi che fa esattamente quello che vuoi e quindi è proprio bello perché tu puoi esprimere diciamo anche te stesso tramite il deck building però allo stesso tempo è difficile per i giocatori perché hai comunque una pool di carte gigantesca perché anche questo è un formato eterno quindi dove possiamo usare tutte le carte uscite in magic seguendo ovviamente una lista di carte bandite e quindi è veramente difficile anche perché abbiamo la regola di utilizzare una sola carta una sola copia per carta a parte le terre base quindi siamo obbligati anche per avere ridondanza di effetti a cercare carte che hanno effetti simili ma che hanno nomi diversi e quindi inizia a diventare complesso costruire un mazzo commander e non è una cosa per diciamo per chi inizia perché comunque si parla anche di carte magari così vecchie che uno non può conoscerle se inizia da poco esatto è anche la difficoltà io mi ricordo quando ho iniziato che dovevo leggere tutte le carte al tavolo perché è certo saldano fuori sempre carte che non conosci e che quindi devi star lì a leggere perché a volte ci sono anche varie meccaniche che magari sono uscite anni fa e non si sono più viste per un po' quindi sicuramente per iniziare non è non è il metodo più semplice no però è una cosa che una volta imparato a giocare un po' a magic e penso sia uno dei formati più divertenti a cui si può giocare in realtà sia a livello di costruzione mazzo sia a livello di giocare vero e proprio assolutamente sì anche perché in commander questo non l'abbiamo detto ma è importante è ammessa essendo un formato multiplayer la politica quindi noi possiamo fare patti con gli altri giocatori chiedere favori fare favori ed è una cosa molto bella perché è letteralmente un gioco da tavolo esatto ci si prende di mira su chi ti ha dato fastidio la volta prima esatto esattamente quindi tra i costruiti sicuramente a livello di gioco è il formato più bello personalmente sì secondo me sì poi non richiede a differenza degli altri che abbiamo detto fino adesso commander non richiede allenamento mentre gli altri comunque essendo formati competitivi per vincere devi conoscere gli altri mazzi devi capire le migliorate ottimizzarle invece commander è una cosa molto più leggera sì cioè proprio si affronta in modo spensierato non devi star lì a sapere anche perché è impossibile sapere tutte le carte infatti anche per il limite dell'uno per quindi ci sono 99 carte diverse potenzialmente non puoi prevedere cosa c'è in un mazzo a differenza degli altri dove si giocano quattro copie delle carte sì alla fine commander uno può guardare dire ah ho bisogno di una soluzione per un determinato tipo di minaccia e quindi vai sul generico e non sullo specifico mentre in modern magari metti delle carte apposta per controbilanciare i mazzi più forti del formato qua si mettono più un ah ma io gioco col cimitero quindi se mi fanno qualcosa al cimitero io devo sapere come sistemare questa cosa perché altrimenti non riesco più a giocare è diverso sono ragionamenti diversi si guarda sulle minacce generiche non sulle minacce chirurgiche specifiche come in modern legacy chiaro chiaro qui anche perché tavolo commander non puoi prevedere cosa ti trovi davanti anche in un torneo per dire in negozio o in giro comunque c'è sempre l'effetto sorpresa quindi formato consigliatissimo comunque assolutamente se riuscite a creare un gruppo di gioco di commander passerete delle serate bellissime divertentissime e soprattutto aiuta anche a costruire l'amicizia alla fine tra le persone commander perché si creano un sacco di ricordi belli ma ti ricordi quella volta che ho fatto 20.000 pedine è bello è molto molto bello commander come formato seguite sia noi che il bazar di vialata perché parliamo tanto di commander esatto allora passiamo all'altra macro area dei formati ovvero i formati limited come dicevamo prima sono i formati che non necessitano di un masso preparato a casa ma il masso che si verrà costruito con le bustine trovate con le carte sbustate in negozio esatto piccolo disclaimer visto che una volta non era necessario ma adesso è necessario fare questa piccola distinzione questi i prossimi due formati si giocano con le buste da draft ah chiaro sì ero vero perché una volta c'erano solo le buste da draft adesso hanno introdotto altri tipi di buste che però non sono studiati per questi formati quindi le buste del set quindi le buste dell'espansione e le collector booster non sono studiate per questi formati e si devono usare le buste classiche da draft esatto perché hanno una composizione varia sia di colori che di proprio tipi di carte al loro interno per poter costruire poi dei mazzi chiarissimo allora iniziamo col sealed che significa che tu compri sei bustine le apri e quello che hai trovato devi costruire un mazzo da 40 carte dal meno 40 carte chiaro poi solitamente terre incluse solitamente si fa da 40 perché calcolo delle probabilità che vengano fuori le migliori è meglio 40 però nulla vieta di farlo anche con più carte esatto ovviamente le terre base uno se le può portare da casa o le può fornire il negozio e non bisogna utilizzare le terre che troviamo nelle buste perché ovviamente non avremo abbastanza esatto poi le terre comunque sono una cosa sono una risorsa diciamo infinita a disposizione dei giocatori perché sì ovviamente sono le terre base le terre non base invece dovremmo usare quelle che troviamo dentro le buste esattamente esatto le terre base sono la risorsa illimitata tutto il resto è quello che trovi e niente sealed nel senso per noi però sono un punto che il mazzo non serve quindi come diciamo anche magari in altri video anche noi abbiamo amici che non riescono a star dietro a formati costruiti perché con la famiglia il lavoro non riescono ad avere il tempo dedicare alla costruzione del mazzo e quindi fanno questi formati limited perché comprano comprano le buste certo quindi l'impegno non è non è tanto no infatti e in più sealed è uno di è forse l'unico formato in cui si gioca davvero ad armi pari sia i neofiti che i diciamo gli esperti perché alla fine è principalmente una questione di fortuna in più in più il sealed è un formato che noi sappiamo esserci praticamente almeno una volta ogni tre mesi un torneo sealed nelle nostre vicinanze perché è il formato delle pre-release che sono letteralmente il modo migliore per giocare ad armi pari con tutti perché si gioca tutti con carte nuove che non si conoscono e quindi sia il principiante che il diciamo il giocatore un po' più esperto si ritrovano sullo stesso piano perché tutti non conoscono le carte non conoscono bene almeno le carte che ci sono dentro infatti il pre-release è uno dei migliori eventi che ci sono consigliamo a tutti che chi non l'abbia mai fatto di informarsi e cercarne uno nelle sue zone noi di solito ci andiamo sempre infatti ha le porte nuova capenna la settimana prossima prossima fine settimana e quindi cercatelo e provate questo bellissimo formato esatto mentre l'ultimo formato che andremo ad analizzare oggi è il draft ovvero è un limited particolare si è un po' più difficile e per i principianti è un po' più difficile anche da capire a livello di regole esatto perché a differenza del limited del sealed dove apriamo subito il contenuto delle sei buste qua dovremo costruire un mazzo avendo un pool di carte inferiore visto che avremo solamente tre buste tre buste che andranno appunto draftate cioè il draft è una selezione di carte che si fa busta per busta ma il gruppo diciamo perché ogni giocatore del torneo aprirà in contemporanea la busta sceglierà una carta da questa busta e passerà tutto il resto al giocatore prima la sua sinistra e poi con le altre buste destra e poi ancora sinistra e facendo questo diciamo setaccio si arriverà ad avere alla fine il contenuto di tre buste ma di tre buste con carte selezionate esatto quindi sarà anche più facile avere un mazzo efficiente perché noi andremo a scegliere le carte che prendiamo però sarà anche difficile perché proprio dovremmo scegliere delle carte quindi fare delle scelte e quelle scelte sono la parte veramente difficile del draft più che giocare soprattutto per un giocatore nuovo esatto iniziare con draft si draft è uno di quei formati che bisogna prima conoscere un pochettino il gioco e conoscere l'espansione su cui si drafta si comunque diciamo che il metodo migliore per imparare draft è mettersi e provare perché è solo provando e sbagliando che si impara possiamo stare qui a raccontarvela potete guardare i video del Deme che è bravissimo ha fatto un bellissimo video per principianti sul draft però dopo che avete queste piccole conoscenze l'unico modo da mettersi lì è provare e giocare sbagliate sbaglierete le prime volte perché è normale ma sbagliando vedrete gli altri giocatori cos'hanno preso cos'hanno combinato e ne farete tesoro e soprattutto ragazzi consiglio mio lo dico perché ho ricevuto dei commenti sotto proprio al video del draft e ho visto tante volte draft in negozio per favore io ve lo dico proprio col cuore non draftate con card market aperto perché è la cosa più brutta che si può fare il draft si fa per fare un mazzo che funziona non per portarsi a casa le carte costose perché è una cosa che rallenta tutti i giocatori e se uno è lì per giocare e si vede quello davanti che non gli passa il mazzetto perché sta controllando il costo di tutte le carte della busta diventa pesante non è mai capitato ma vuoi dire no quantomeno diciamo di prima insomma date un'occhiata prima a casa si ha la peggio si conosce non è alla cieca a meno che non sia un caro draft però o un mystery booster guardate un'occhiatina solitamente se si fa un'espansione non di quelle recenti si dà un'occhiatina prima prima a casa perché giustamente se c'è una carta di valore sacro santo più non se la tenga però certo diciamo che in generale tanto prendere una carta che sai che vale non ti cambia il draft però calcolate sempre che dovete farci poi un mazzo quindi se voi vi prendete tutte le carte costose poi però avete un mazzo che fa schifo tornate a casa si con le carte costose ma non vi siete divertiti in teoria dovrebbe esserci anche per chi ha provato su Magic Arena c'è proprio un tempo c'è un tot secondi ogni turno diciamo di draft da dedicare alla scelta che man mano le carte diminuiscono nella busta il tempo si dovrebbe ridurre quindi nei tornei ufficiali insomma di draft dovrebbero esserci anche i timer che regolano questa scelta perché uno non può giustamente stare lì ore a pensare niente io concludo dicendo che secondo me draft è la massima espressione di Magic sì assolutamente si gioca ad armi pari perché tutti mettono quella cifra sì tra l'altro non è nemmeno poi un costo così alto se si usano buste di standard certo infatti tre buste solitamente un costo di un draft si aggira tra i 10 e i 15 euro sì in base a premi compresi a quanti sono i premi e con 15 euro tu giochi a darmi pari con tutti a darmi pari nel senso stessa quantità di risorse iniziali devi metterci la bravura nel giocare il mazzo la bravura nel giocarlo e nel conoscere l'ambiente e quindi è il modo dove si capisce uno se sa giocare a Magic o no o comunque è uno di quei formati che quando giochi letteralmente migliori a giocare a Magic pian piano che fai draft perché impari quali sono le carte buone quali sono le carte meno buone capisci le sinergie ti aiuta anche ti insegna anche a costruire un mazzo da zero negli altri formati ti fa vedere anche però quanta fortuna hai rispetto agli altri è quello purtroppo tutte le volte che gioco contro il nostro amico di traduzioni Magic Gathering la maggior parte delle volte vinco pur vedendo che il suo mazzo è studiato alla perfezione c'ha delle sinergie che il mio è una cavolata in confronto però la maggior parte delle volte riesco a spuntarla anche magari all'ultimo quindi vuol dire proprio la fortuna implica parecchio in questo formato sì 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 quella come in tutte come in tutti i giochi insomma componente fortuna però diciamo che si può si può ridurre in questo caso sì beh in questo caso si riduce parecchio in draft si può ridurre niente io direi che siamo giunti al termine di questa questi erano diciamo i formati principali poi come dicevo all'inizio della puntata ci sono mille altri formati come centurion come tipo pauper commander però sono quei formati che sono minori si giocano di meno o sono nuovi e quindi o addirittura non supportati come nel caso di centurion non supportati da wizards e quindi non ne parleremo e se volete vi potremo anche eventualmente informare più avanti se volete chiederci qua sotto nei commenti mettetelo pure delle puntate su formati specifici noi ben volentieri ve le forniremo perfetto allora se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace fateci sapere voi a che formati giocate così sappiamo anche chi sono i super seguaci che ci hanno ascoltato fino a questo momento e niente noi vi salutiamo dall'antimeta è tutto e anche da parte mia ovviamente il mercante del bazar di Via Latta vi salutiamo per la prossima puntata alla prossima puntata alla prossima puntata grazie a tutti